...gerare per la zona, variamo in giro tra 1.500 e 2.500 minuti, in modo che il nuovo albero si ammiettino. Speriamo solo che mai che... Ehi, questa sì che è un bel suono, ora devo restare qui. ...voglio che lo rendano anche a me meglio, quindi ho passato il povericcio su internet. Alimento, ora che ha degli offerti interessanti. Sei Giulia? Sì, ma ciao, come stai? Molto bene, piacere di conoscere. Sì, sì. Guarda che posto! Sì, ne siamo fieri. Qual è la prima cosa che potrei fare per rendere l'auto più appetibile? Una cosa molto semplice, cambiare i fari anteriore. Bene, quindi cambio questi e anche la griglia? Sì, certamente, ed è facilissimo, ti costa meno di 20 sterlino. Un'altra cosa che ho visto è che...